L'Università di Catania intende rafforzare le proprie relazioni con gli Atenei e i centri di ricerca svedesi, in particolare nell'ambito di settori strategici e della formazione di eccellenza, favorendo lo scambio reciproco di docenti e studenti. E' inoltre già in cantiere il Master interdisciplinare Away to North, che avrà l'obiettivo di fornire competenze culturali e linguistiche a tutti coloro che intendono svolgere esperienze di lavoro nei paesi scandinavi. E' quanto emerso da un incontro tra il Rettore Francesco Priolo e l'Ambasciatore di Svezia in Italia Jan Björklund a Catania per inaugurare la mostra fotografica Immagini che cambiano il mondo, ideata dallo Swedish Institute e realizzata in collaborazione con l'Ambasciata di Svezia. Siamo molto felici, ha commentato Björklund, della collaborazione con l'Università di Catania, un'occasione per sollevare tematiche importanti come inclusione, parità del genere e diversità che sono requisiti necessari per il buon funzionamento della democrazia. Siamo certi che questa collaborazione porterà ad altre fruttuose intese scientifiche tra le migliori università svedesi e italiane anche in futuro.